Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici sul canale di Sara e Ale, più Sara che Ale. Allora, come spesso accade apriamo un pacchetto di patatine, ma salati preziosi, chips and gadget, qualcosa di strano, gemme slime, mai visto prima una cosa del genere. Colleziona le preziose gemme slime, io non riesco a capire di che cosa... Tu non puoi aprire le patatine, tu apri un sacco di cose, no no no, le patatine le apro io, no no no, Sara, vai via, vai via, vai via, le patatine le apro io, no no, è il mio compito non farti vedere quello che c'è dentro. Quale vuoi trovare? Ah, quale vuoi trovare? Non c'è la checklist! Importante! Importante, mettete le checklist! Annuncio! Annuncio importante, mi sta per cadere un dente, mi cadrà un dente! Durante il video? No, vi avviserò quando mi cadrà! Allora! Ho capito, ho già capito, ho già capito, ho già capito, ho già capito da una cosa che non mi piace, non aprirlo! No no, non lo apro! Sono delle gemme con dentro dello slime! Allora, sì, ma io non so se sono apribili, eh! Potrebbero anche essere solo così! Sì, ma perché le servono! Beh, dici? Vabbè, io le lascerei chiuse comunque a prescindere, aspetta, lasciamo questo qui, guardate! L'idea è carina, cioè, allora, noi non siamo amanti dello slime, no, non fare così che se si apre... Sì, sì, si apre! Si apre? Sì, si apre! Comunque, noi non siamo amanti dello slime, però l'idea è molto carina! Hai una gemma, che può essere probabilmente quindi verde, gialla, azzurra, rossa, di vari tipi, non abbiamo la checklist! Mettetela almeno dietro, la checklist, salati preziosi! Però è carino da vedere, anche perché è anche grande, quindi è un po' di slime, a chi piace lo slime sicuramente bello, e la forma di gemma è carina! Aspetta che togliamo questa qui che rompe! Sì! Guarda che bello! Certo! No, aspetta, lo rimettiamo qua! E poi... Non si vedeva bene, perché non si vedeva bene, guarda come fa riflesso, guarda il riflesso! Brilla come una misteriosa gemma trovata nella foresta amazzonica! Amazonica! Sì, bello! Amazonica perché ci sono gli alberi che ti danno i pacchi di Amazon, al posto di fare la frutta! Oh mamma mia, che cosa... Mamma mia, che cosa andavo sentito... Mi fumano le orecchie, bella però, è la carina, è la carina! Con le patitine non è che possiamo stare qui in mezza giornata... Mi è venuta perché ho guardato il video del guffo di Sio, e con questo nome, guffo, saluto Emma! E salutando Emma... Noi, vi sentiamoci da un presidio, ciao!